ciao a tutti amici di esperienza mobile come te siamo in compagnia di ngm forward racing hd quindi terminale appena uscito di casa ngm qualcuno mi aveva chiesto poi ho visto il negozio mi è piaciuto abbastanza ormai i telefoni dalle censiere stanno finendo ho detto perché no quindi l'ho preso allora vediamo un po è un unboxing quindi vediamo la confezione qualche telefono dentro troviamo subito tre cover intercambiabili o da quella che già sul dispositivo dopo nemmo vederle molto bello di fatte bene in plastica abbassa dopo le vediamo vediamo la gialla che c'è sopra una batteria da 2000 miliampera speriamo che duri ve lo saprò dire tra l'altro adesso sapete che comincia sono le vacanze io andò in montagna una settimana circa e vi farò anche dei piccoli live vi farò dalla batteria quindi insomma col freddo e tutto potrò testarlo molto bene ho scelto questo telefono da portare via perché volevo uno discreto questo mi è sembrato discreto l'ho preso cavetto usb micro usb bianco le cuffiette di qualità diciamo discreta somigliano un po quelle del insomma sono quasi uguali a quelle dell'iphone 4 4s bianche comunque si col gommino grigio con sono veramente molto simili qua abbiamo l'alimentatore da parete piccolino molto molto carino e qua abbiamo vediamo un po manualistica e niente di niente di che qua boh vi dice con pari accessori originali sul sito boh ok niente vediamo un po questo telefono andiamo a installare anche la batteria eccolo qua togliamo la pellicola allora dispositivi vediamo qua intanto com'è fatto questo è un giallo veramente spara un sacco veramente fluo logo ngm al primo accendere di metà batteria via un po davanti capsula auricolare videocamera anteriore sensore di umidità prossimità tre tasti soft touch home opzioni indietro microfono lato sinistro bilanciere del volume pulito parte bassa oltre al microfono pulito qua abbiamo l'accensione sperimenti blocco sblocco qua la fenditura per aprire la scocca posteriore ingresso micro usb in alto non mi piace molto e ingresso per le cuffie jack da 3.5 fotocamera 8 megapixel con flash red e autofocus altoparlante il sistema e basta ovviamente il terminale è un dual sim vediamo se riesco ad aprivo senza distruggere tutto perché so che è dura ci ha messo prima anche il commesso ci ha messo 20 minuti buoni per aprirlo è perché veramente infatti devo dirvi che quando è chiuso qua sembra veramente un monoscoc quindi assolutamente da premiare scusate però con attimo il video per non eccoci qua ce l'abbiamo fatta allora andiamo di inserire la batteria da 2000 miliampere qua abbiamo due slot per le sim in formato normale purtroppo non c'è ormai mettete micro sim dico io vabbè qua abbiamo la lo slot per la sd in formato micro per l'espansione memoria il telefono non ha purtroppo 4 gb espandibili anche qua dico tra l'altro sulla serie forward che è quella diciamo top di ngm metteteci 8 giga almeno di memoria 4 ovviamente sono hanno stufato perché insomma con due giochi già si riempie la memoria quindi vabbè anche qua stendiamo un velo pietoso allora acceniamo il dispositivo per vedere un po' per vedere scusate il mio tasto è si dovrebbe essere questo infatti si è acceso non rimetto la cover perché poi devo mettere la sim non voglio togliere di nuovo poi devo scegliere anche qua rimettere penso che metterò quella gialla mi piace lascerò quella gialla allora display è un 5 pollici hd quindi risoluzione insomma abbastanza buona 300 pixel per pollice circa i neri sono abbastanza neri niente di che l'angolo di visione vi dico subito che è molto buono perché adesso sto girando tantissimo e si vede veramente bene questo è da dire quindi un ottimo display mi sembra eccoci qua si è acceso sblocchiamo batteria ok lasciamo in un attimo di bello lo sfondo intanto andiamo in un attimo di tempo il processore è il solito mediatek quad core 1.2 gigahertz 1 gigabyte di ram e basta nient'altro da dire adesso sta ancora caricando comunque la fluidità mi sembra discreta è sufficiente diciamo eccoci qua adesso nel software abbiamo android 4.1.2 jelly bean qua abbiamo i tolgo rapidi insomma mentre faccia abbastanza classica con poche personalizzazioni le icone fortunatamente sono quelle di android e non sono quelle di ngm l'unica cosa di ngm che rimane è il tasto home comunque penso che stareò un launcher perfetto per questo unboxing è tutto ci vediamo nelle prossime recensioni vi auguro buone feste e niente seguitemi anche durante le vacanze perché penso sempre a voi un saluto da lorenzo per l'esperienza mobile ciao ciao